lezione 5 come stai ciao maria ciao minsu come stai sto bene grazie e tu molto bene sono molto contento di rivederti a roma anch'io ciao maria ciao minsu come stai sto bene grazie e tu molto bene sono molto contento di rivederti a roma anch'io lezione 5 come stai ciao maria ciao minsu come stai sto bene grazie e tu molto bene sono molto contento di rivederti a roma anch'io ciao maria ciao minsu come stai sto bene grazie e tu molto bene sono molto contento di rivederti a roma anch'io lezione 5 come stai ciao maria ciao minsu come stai sto bene grazie e tu molto bene sono molto contento di rivederti a roma anch'io ciao maria ciao minsu come stai sto bene grazie e tu molto bene sono molto contento di rivederti a roma anch'io ciao 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 ciao